Quante volte in carriera ha giocato questo tipo di partite Davide Mero, la partita con tre punti pesantissimi in palio? Sì, mi è capitato anche l'anno scorso di giocarle, partite secche perché alla fine questa si può descrivere come una finale, perché o loro o noi per il terzo posto, dobbiamo portare i punti a casa assolutamente perché mentalmente arrivando quinti potremmo subire anche il colpo, ma noi andiamo là per fare la nostra partita e per vincere. Che partita ti aspetti? Cominciamo subito con l'analisi del Picerno. Loro sono una squadra forte, se sono lì è perché hanno delle qualità importanti, noi andiamo là preparandola come tutte le partite, perché noi tutte le partite andiamo per giocare a viso aperto, di sicuro non per difenderci e cerchiamo di portare i tre punti a casa. Il Pescara nelle occasioni in cui non ha interpretato bene la partita, mi viene da pensare Taranto, mi viene da pensare Messina, ha fatto fatica addirittura a tirare in porta e per le squadre di Zeeman questo è un po' un paradosso, perché secondo te? No, magari quando becchiamo squadre chiuse andiamo un po' in difficoltà, però la partita di Taranto spero che ce la dimentichiamo in fretta e non ripetiamo più una prestazione del genere, andiamo là cattivi e convinti che il terzo posto può aiutarci più nei play-off. Perché Davide Merola è uno dei pochissimi giocatori a cui Zeeman non può rinunciare? Questa è una domanda che dovete fare al mister, non dovete... Viviamo a te, tu lo conosci bene il mister? Io mi metto a disposizione, cerco di fare tutto ciò che mi chiede il mister, a volte non ci riesco e lui mi ripete che è un anno che non ci capisco ancora molto, però mi metto a disposizione sua e spero di farlo contento. Però lo dice scherzando perché poi ti fa giocare sempre? Spero di sì. Che cosa ti dice Zeeman? Raccontaci questa aneddota. No, io dall'anno scorso a quest'anno, dico la verità, il rapporto si è ampliato un po' di più e a me fa piacere perché un maestro come lui può solo insegnarmi, lui cerca di spiegarmi tutti i movimenti possibili e quindi per me è un motivo d'orgoglio giocare per lui. Davide Merola è arrivato a Pescara e si è presentato subito con una doppietta, quella partita con il Potenza. Da allora ad oggi che Davide Merola è? No, Davide Merola è uguale con una spinta in panchina del mister perché vedere il mister che ci cerca di dare tanto come gruppo è lì, è uscita una foto che era sotto la pioggia, per noi è un motivo d'orgoglio e noi vogliamo farlo felice e cercare di fare i pre-off da protagonista. Ti spieghi un po' i movimenti che ti chiede Zeeman, perché spesso vai ad accentrarti e prendi la palla, poi crei la superiorità, sei l'unico che lo fa nella squadra. Non posso spiegarti, se no se qualcuno sente l'intervista può... Non ce lo spiegare, andiamo avanti, questo sorriso ci piace, andiamo avanti, è fatto sorridere anche il nostro Diego dietro alla telecamera. Ti chiedo invece, Davide Merola è il futuro? Hai speso più volte parole, non dico d'amore, ma di grande apprezzamento per Pescara? Sì, come ho già ripetuto in una delle prime interviste che ho fatto, qua a Pescara sto bene, però per il futuro secondo me ne parleremo a fine play-off, sperando di averli terminati nel miglior modo possibile. L'anno scorso, ricordo male, contro l'Intella avevi l'Escano di fronte? Sì. Come va quella per fuori? Ci ha fatto fuori. Ve l'hai ricordata questa cosa? Eh sì, per forza. E adesso quest'anno che play-off ti aspetti? Eh, quest'anno li facciamo insieme, speriamo di far fuori noi qualche altra squadra. Bocca al lupo, Davide. Grazie. Grazie.